Benvenuti nel mondo degli orologi Shinola. Shinola è un marchio di orologi americano che ha fatto la sua comparsa nel 2011. Con sede a Detroit, Shinola si è guadagnato una reputazione per la produzione di orologi di alta qualità e per il suo impegno a sostenere l'industria manifatturiera americana. Gli orologi Shinola sono realizzati con materiali di alta qualità e progettati per durare a lungo. Il marchio offre una vasta gamma di modelli, tra cui l'iconico Ranwell, caratterizzato da un design classico e un quadrante grande e facile da leggere. Ma Shinola non si limita alla produzione di orologi di alta qualità, offre anche un'ampia gamma di accessori, tra cui penne, borse e articoli da viaggio. Tutti i prodotti Shinola sono fabbricati negli Stati Uniti e il marchio ha creato migliaia di posti di lavoro nel paese, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità economica. Oltre all'impegno economico, Shinola si adopera anche per sostenere le comunità locali. Infatti, il marchio contribuisce alla costruzione di parchi pubblici, biblioteche e scuole nelle città in cui opera. Se stai cercando un orologio di alta qualità, Shinola potrebbe essere la scelta giusta. Sia che tu stia cercando un orologio classico o un modello più moderno, Shinola offre una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Prima di tutto, i materiali utilizzati. Tutti gli orologi Shinola sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, pelli e cristallo zaffiro. Questi materiali non solo conferiscono agli orologi una qualità superiore, ma li rendono anche resistenti e durevoli. Inoltre, gli orologi Shinola sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, garantiti dalla casa madre della Svizzera. Questi movimenti sono sinonimo di precisione e affidabilità, garantendo che il tuo orologio Shinola funzioni correttamente per molti anni a venire. Ma ciò che rende davvero unici gli orologi Shinola è il loro design. I modelli Shinola, come l'iconico Runwell, sono caratterizzati da un design classico ispirato ai vecchi orologi industriali e ai macchinari da officina. Ma allo stesso tempo, gli orologi Shinola sono anche moderni e innovativi, offrendo un tocco di freschezza e originalità. Inoltre, Shinola offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui cinturini intercambiabili e opzioni di incisione. Questo significa che puoi creare un orologio Shinola che sia veramente unico e personalizzato per te. Grazie. 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 Grazie.